Novena del padre, dettata dalla Madonna del Rosario de San Nicolás de Los Arroyos in Argentina, il 12-12-1983, per ottenere la liberazione del male e la sapienza. Padre, liberaci da ogni male. Con la Tua santa sapienza, Signore, salvaci da ogni peccato. In nome di tutti quelli che Ti amiamo, Signore, portaci per il cammino del bene. Amen. E citare poi il Santo Rosario. Di Danie si risponde, dacci oggi la Tua benedizione. Cammino degli smarriti, dacci oggi la Tua benedizione. Medicina degli ammalati, dacci oggi la Tua benedizione. Bevanda degli assetati, dacci oggi la Tua benedizione. Ricchezza degli umili, dacci oggi la Tua benedizione. Benedizione dei Suoi figli, dacci oggi la Tua benedizione. Spirito Consolatore, dacci oggi la Tua benedizione. Amore degli amori, dacci oggi la Tua benedizione. Vita di quello che è eterno, dacci oggi la Tua benedizione. Padre della Divina Misericordia, dacci oggi la Tua benedizione. Questa novena si recita dal 17 al 25 di ogni mese. In modo particolare per il 25 settembre, data della prima apparizione di Santa Maria del Rosario di San Nicolás del Rosario. Questa novena serve anche per aumentare la nostra fede nel Signore. Vedi il messaggio che la Madonna ha dato il 22 9 1984. Fine. Amen.